È stata un'estate meravigliosa, davvero. Un sacco di gente, un sacco di concerti, un sacco di mani alzate al cielo, un sacco di canzoni. Insomma, leggevo prima più di 100 ore di musica, ma come ho fatto? È stata un'estate meravigliosa, davvero. In realtà sarà una cosa molto semplice, cioè... Molto semplice perché sarà fatta da 5 persone che suonano insieme. Sono canzoni completamente riarrangiate, quindi già l'effetto speciale è un vestito nuovo a delle canzoni che molti conoscono per come sono sui dischi e per come sono state suonate dal vivo fino ad ora. Adesso saranno completamente diverse nelle intenzioni, nella dinamica, nel suono. E quindi sarà un tour in teatro. Non puoi fare fuochi d'artificio in un teatro, però li puoi fare con la musica. Ciao amici di Sorrisi.com Sorrisi, ciao!